La giornata super storica, direi che è un grande obiettivo, il punto di partenza, un punto solido, abbiamo messo i piedi sul terreno solido e da qui non si può che andare avanti, non si torna indietro. Abbandonata la spesa storica, si fa bisogni standard, con partecipazione su più aliquote e tributi, le 23 materie, quelle previste dalla Costituzione e poi ovviamente la Costituzione della Commissione Paritetica, che è un'istituzione che già esiste nelle province autonome di Trento e Bolzano. Sono molto soddisfatto di concludere in bellezza la mia esperienza di 5 anni al governo della Regione Lombardia. È scritto, non si torna indietro, bisogna completare il percorso naturalmente che è affidato al prossimo governo, al prossimo governatore della Regione Lombardia, ma c'è scritto nero su bianco la pagina storica che apre un percorso nuovo per la Lombardia, per le regioni, per il sistema dell'autonomia. È davvero storica perché è la prima volta che si mette una firma a un preaccordo, perché poi come sapete servirà una legge del futuro Parlamento, approvata maggioranza qualificata, ma è evidente che il prossimo Parlamento, il prossimo governo, come faranno a non tener conto di una firma che Emilia Romagna, Veneto Lombardia pongono insieme al sottosegretario Bressa su una cosa così importante. È un primo passo, siamo sempre nel terreno di attuazione della Costituzione, siamo partiti con tre regioni e speriamo che queste siano solo l'avanguardia, perché questa è una questione che riguarda tutte le regioni d'Italia. Ci sono già degli abboccamenti in fase avanzata con il Piemonte e la Liguria, abbiamo avviato una trattativa anche con la Campania e la Puglia, quindi è un primo passo. Penso che ormai, lo diceva Einaudi, ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta, lo dicevano nel 1948, oggi stiamo dando ad ognuno l'autonomia che si spetta, mi fa piacere che ci sia applauso e mi fa piacere anche che da quasi tutte le forze politiche ci sia questo impegno nella nuova legislatura per dare l'autonomia a chi la chiede. Voglio dire solo una cosa, il Veneto ha aperto la strada, è aperto la strada, è una strada per il Veneto e per tutti quelli che la seguiranno perché troveranno anche le procedure già stabilite, procedure che noi non abbiamo trovato. Quello che potevo fare in questa fase a nome e per conto del governo l'ho fatto, adesso la palla passa al prossimo Parlamento. Grazie. Grazie.